Da solo non basto, in viaggio con i ragazzi di Cheros, Portofranco e Piazza dei Mestieri, la mostra che il CSV Abruzzo ETS allestirà dal 7 febbraio al 29 aprile all'Aquila all'emiciclo, poi a Pescara, a Terra, a Melanciano, è stata presentata in comune. Presenti il presidente del CSV Casto di Buonaventura, Gianni Merghetti di Portofranco, che è un centro d'aiuto allo studio rivolto agli studenti delle superiore, l'assessore alle politiche sociali, Emanuela Turzini, una mostra che è un'immersione nell'universo dei giovani e delle loro attese, feriti e desideri. Attraverso la storia di Chiara e Rashid si apre uno spaccato sull'universo giovanile, ragazzi che raffrontano un percorso che li porta ad incontrare le tre realtà associative, portando avanti una sorta di riscatto personale. La mostra è strutturata in questo modo, farà il suo giro nelle quattro province, come abbiamo detto, in quattro località, L'Aquila, Pescara, Teramo e Lanciano, ma soprattutto è una mostra che parte da racconti di uno scrittore molto famoso, che ha fatto anche Mare fuori, eccetera, eccetera, quindi che ormai fa per la maggiore, e che narra la storia di due ragazzi, Rashid e Chiara, che hanno per versi differenti difficoltà di inserimento, e anche una scelta, uno violenta, e un altro invece di buttarsi via. L'incontro con delle associazioni che fanno attività di volontariato, riscoprono la gioia di vivere, si riscoprono esseri umani e quindi rinascono. E questa è un po' la speranza, e questo è un po' il messaggio che vogliamo lanciare anche ai giovani. Abbiamo voluto raccontare dei giovani, raccontare i loro drammi, i loro bisogni, le loro ferite, il loro desiderio di uno sguardo, e poi abbiamo raccontato come incontrando queste tre realtà c'è una rinascita, loro si sentono a casa, si sentono guardati e riscoprono il loro talento. Per cui l'aspetto positivo di questa mostra è che fa vedere attraverso storie di ragazzi come incontrando uno sguardo adulto puoi ritrovare una prospettiva di vita.